Ciao ragazzi, oggi volevo fare un video un po' particolare Praticamente volevo vedere cosa fare in isolamento Praticamente nel senso che io farò finta di essere chiuso nella mia stanza Anzi adesso chiedo la porca E io non potrò usare apparecchie elettronici Io dovrò cercare di passarmi un'oretta facendo qualcosa Allora, io ho due videocamere Ciao Videocamere Una webcam e un telefono Così almeno potrete vedermi da due lati Sarà un casino da aiutare questo video, perfetto Allora, tra le cose che potrei fare ci sarebbe parlare da solo con un pupazzo Franci fai cagare Come osi, giocare a carte con un pupazzo Oh tu mi stai fregando eh Cosa posso fare? Ragazzi faccio una recensione epica Allora, ho comprato questa mano d'Ikea Ed è bellidissima Puoi fare il dito a me della gente e non farlo allo stesso tempo Perché lo fai ma non lo fai con la tua mano Oppure puoi metterti di dare il naso senza sporcarti È utilissimo La reposiamo che è una cosa importantissima Ragazzi, ma voi guardate i Power Ranger da piccoli Eh? Guardate che figo Questo qui lo posso trasformare Un secondo Atatac In un toro E mi ricordo camminava pure perché c'ha questi qua Bellissimo rumore Voi vi siete mai chiesti come alla fine la vostra camera si è riempita di pupazzi? Cioè per esempio questa tigre Perché ho questa tigre in camera? Boh Oppure Questo Spider-Man Questo dove l'ho preso? Ce l'ho da quando sono piccolo Come facci a ricordarmi dove l'ho preso? Questo Questo c'è una foto di me da piccolo C'ho questo Vedete? Guardate che bello Ragazzi volete vedere? È una figata Mi sembra una lampada? È una lampada Dovevo mettere il buio Ecco Ora non si vede niente È una lampada Ed è anche Una penna È utilissimo Che ne so Magari ti ritrovi in una foresta E non è la luce Non so mai perché mi dovrebbe portare una penna in una foresta Però Sì Oppure guardate Vedete questo è un cactus No? È una penna Magari vi serve una penna mimetizzata da cactus Perfetto Vi ha mai servito una Ferrari di legno? Non lo so Potrebbe sempre essere utile Perché buttarle? Oppure un mini drone di cui hai perso il caricabatteria Non so quanti anni fa Ragazzi Io una volta Due o tre anni fa Ho fatto Con dei mattoncini Lego Il simbolo di Youtube Non mi padano abbastanza per fare questo lavoro In realtà non mi padano affatto Volete vedere una bella cosa? Questo non so se sono io o Gioele Penso di essere Io non lo so Boh Questo sono di sicuro che Gioele Faccio vedere subito Che gangster Mamma mia Ragazzi mi spiegate perché non vedo niente Francesco? Non conosco nessun Francesco signore Non so perché ce li ho Però sono bellissimi Ragazzi avete presente il bastardo di dentro Che fa i diari scolastici Io avevo proprio il diario scolastico l'anno scorso Quando ero in terza media E praticamente usciva insieme al diario questo Sono bellissimo Oh io vedo in 3D con sto cosa Guardate Vedete pure quanto sto registrando 12 minuti Dai ci vuole ancora 48 minuti Qui c'è il cubo di Gioele Bellissimo Farò così all'impianto Finché non lo risolto Ok mi sono scrivato Basta Ragazzi voi avete mai avuto Sono uno zaino Una specie di Prozzi Win the Pooh Che ormai si sta Ormai sta morendo Guardate qui Guardate qui quanti sono fashion Ehi Compra zaino Win the Pooh Bellissimo Bellissimo Guardate che bella questa cosa di Topolino Vediamo se trovo qualche cosa bella scritta Ah questo è bello Più a meno Questo più a meno Per essere un Penso sia un disegno vecchio Dovrebbe essere un grago Non so chi dovrebbe essere questo Ma so che ha degli occhi molto strani 200 iscritti 4 novembre 2021 Mi era segnato la data degli iscritti Wow 4 novembre 2021 Oggi è invece È l'11 gennaio Del 2023 E non è che mi sono arrivato a mille Sono arrivato a 420 Questo è il mio anno Me lo sento però Dai Oh ne avevo 400 fino a Un paio di giorni fa Ne ho fatti 20 in tipo una settimana È il mio anno Disse così E poi Mi chiuso nel canale Non so che altro vedere Ci sono i giochi qua dentro Questo è stato per un tiktok Un robot strano Che non mi ricordo Magari mi pare che camminavo Se premavi il pulsante Di sicuro adesso sono tutti senza batterie Oppure andavano A sogni e speranze dei bambini E quindi ormai Io non ho più sogni e speranze E quindi non Non funziona Qui c'è un marciato di Thor Della Nerf però Praticamente Gli avevano comprato a Joelle Questo qui Tu qui metti il proiettile Premi questo tasto Tu quando premi il tasto Premi qua forte Spara È una figata lo so Ci sono i colpi Subito Caricato Vediamo Lo faccio qui Oh Che figata Ma perché questo lo teniamo lì È bellissimo da mettere qua Per bellezza Allora dove lo metto No Un arco che una volta aveva una cosa per stirare le frecce Adesso sarebbe per Un Power Ranger Che cambiava la testa Che figo Una spada di Power Ranger Che mi pare che Dovrebbe funzionare ancora Però guardate che figo Ora è una spada Tu la mettevi qui Premi questo tasto Ho fatto un rumore Ammaia Dai Premi un tasto Ecco E diventa una pistola Dai Credo in te Dai funziona Ho fatto un rumore Funziona Metti like Iscriviti Bello mi è piaciuto Da piccolo Faccevo così Faccevo tipo Finta di essere un samurai E adesso invece sono solo un fallito Potrei suonare la chitarra Uff Finta di essere Finta di essere Finta di essere che posso fare cantare ma è diventato un video di musica per fare sta cagata ci ho messo quattro minuti potevo fare di meglio ma ci sto tetti cosa posso fare tetti? tetti? rispondimi tetti? mi pare a non rispondere qui se volete c'è quello di Winnie the Pooh con la maglia dell'Inter non lo so perché però c'è qui se volete c'è uno gnomo eh? cioè se uno ti chiede ma tu c'è uno gnomo che allunga le sue gambe io gli dirò sì e tu che dirai? non ce l'ho eh eh cosa? perché qualcuno mi dovrebbe chiedere un gnomo con le gambe che si allungano? che ne so io ma magari potrebbe succedere io lì ho un bersaglio freccette sono fortissimo se ci pensate alla vita è un po' come mio fratello cioè fa schifo ok questa similitudine era un po' brutta oh sa su una nunca se rinde guarda c'è un mini skate adesso faccio un'acrobazia guarda qui di vista che è un'acrobazia parlo con te Franci parlo proprio con te Franci che è edita lo so che sei bellissimo oh grazie Franci ok ho registrato 52 minuti perfetto posso salutare e allora se vi piace vivere vivete se vi piace iscrivervi al canale iscrivetevi e se vi piace morire morite adesso ora now quindi ciao ciao